buonasera amici un saluto a tutti rugioli buon primo aprile a tutti faccio un piccolo aggiornamento una cosa veloce 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 più veloce possibile delle mie coppie con i suoi piccoletti va bene e allora facciamo mettiamo un po di luce così così allora ci sono la tabbe numero uno dei scotch insomma non si vede bene comunque attra gabbia numero due altri scotch vedete papà bianco e se è fioletto gabbia numero tre altri scotch vedete già quasi pronte a svezzare mamma e papà e loro la tabbe numero quattro riprendo i piccoletti ve li faccio vedere sempre scotch vedete sono cinque scotch e allora gabbia numero cinque amici per me la mia preferita ci sono dei cinamo e dei pezzati guardate che bello questo spettacolo si vedete si vedete amici mamma papà famiglia completa poi andiamo nella tabbe numero sei sempre scotch papà e i suoi figli figlioletti sono due bianchi e un verde gabbia numero sette altri figlioletti va bene ok la gabbia numero otto ancora non vuole fare niente sono in attesa la gabbia numero nove la tipologia di canarini giallo mosaico papà con i suoi tre cuccioletti va bene ok gabbia numero dieci giallo mosaico a sola il maschio lo usato a salto gabbia numero undici alle uova gabbia numero dodici ci sono i due gialli mosaici che è già piccoletto vedete già si dà da fare questo è alla palaimetana non ci trova l'uomo va bene altra gabbia numero tredici giallo mosaico che c'è delle uova gabbia numero quattordici giallo intenso perbinata che c'è dei piccoletti mi sembra no 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 questa ancora deve fare le uova e qua strafino gabbia numero quindici amici qua c'è un po' di confusione sono sei però vedete questo è un pipe insomma ci ho avuto un po' di meno però che lo sta allevando questa coppia di qua anzi sole e maschio ottimo pagine va bene andiamo nella gabbia numero 16 vediamo vediamo va bene sono quattro vabbè ce le rimettiamo di nuovo amici ok andiamo alle altre coppie sempre con giallo giallo intenso questa è un'altra tipologia giallo intenso di pezzinato vediamo vediamo va bene il gozzo bello pieno io non imbecco completamente ci pensano i genitori una volta lo facevo l'imbeccavo poi ho notato francamente che non c'è proprio bisogno e allora lascio perdere comunque questa è una femmina di fife che ha delle uova questa è un'altra fife vediamo e ci sono i due piccoletti vedete va bene andiamo avanti e allora qua ci sono gli altri te fife mamma stupenda loro sono i te piccoletti e un saluto al mio parrino passaretti che ci teneva in questo video farglieli vedere vediamo va bene mamma con i suoi piccoletti va bene amici allora andiamo nella cabbia numero 21 sempre fife vedi 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 allora vediamo che c'è qua va bene piccolino è più piccolo questo sono quattro amici va bene quattro fife piccoletti allora questa è una coppia di fife pure che deve depurre delle uova altra coppia di scotch mamma e papà è già loro va bene sigaretta va bene e allora qua c'è una coppia di giallo maschio giallo intenso e legge al lavoro che c'è delle uova va bene amici niente altra coppia di scotch mamma è messa che c'è cinque uova papà dico 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 guardate qua c'è un po' di confusione sono quattro piccoletti con il papà stanno benissimo coppia di oso va bene amici ok altra coppia di oso che c'è delle uova che devo poi ricontrollare va bene altra coppia di oso vediamo cos'è buona vedo va bene e allora vabbè un'altra coppia di fife giallo mosaico altri fife vedete ok giallo mosaico che c'è un piccoletto neanche la disturbo perché poco poco è disturbata e niente amici andiamo avanti così e ora e ora amici vi saluto un bacio rugioli e che dire andiamo avanti andiamo per la seconda cova e penso proprio che mi fermo perché diciamo con gli anellini già sono quasi arrivati quindi è venuto a farne altre covate in più e poi sono due massimo tre covate se vedo qualche coppia che non va però tutto sommato mi sto divertendo e loro stanno bene va bene anzi voglio salutare insieme a mio fratello Calogero Calogero saluto a tutti gli amici di facebook ciao a tutti voi mi dà una mano ragazzi mi dà una mano la garantisco grazie a tutti